Elisa Maino Elisa Maino, la baby star del web ospite a cancelletto estate Elisa Maino, chi è la ragazza che ha conquistato un milione di followers? Elisa Maino è un adolescente di 14 anni che ha conquistato il web. Elisa Maino È una vera e propria star del web che è diventata famosissima grazie all app di Musical.ly, un social network che permette di condividere video che vanno dai 15 ai 60 secondi mentre si mimano le canzoni preferite. Si possono improvvisare anche duetti con amici e condividere il tutto con la community. Elisa Maino è la ragazza che i millennial definì con una muserei sul social ha conquistato più di un milione di followers. Ospite da Alfonso Signorini nell'ultima puntata di Cancelletto estate, la ragazza ha anche parlato di sicurezza del web, ha ammesso, infatti, che i suoi genitori posseggono tutte le password dei suoi account per tutelarla. Sogna di diventare una bravissima conduttrice. Elisa Maino, adolescente con un milione di followers. Avere 14 anni ed essere seguiti da un milione di followers sui social non è roba da tutti. Elisa Maino ce l'ha fatta. Nata a Rovereto, è diventata una star ma continua ad avere la testa sulle spalle. Grazie ai suoi video tramite il social network musicali.Li è diventata molto apprezzata e amata, performance impeccabili che le hanno permesso di conquistare il cuore di molti teenagers e di ottenere il riconoscimento al vide con In California come l'italiana più influente su musicali. Tramite l'app, Elisa Maino canta le canzoni dei suoi idoli come Ed Sheeran, Justine Bieber, Ariana Grande, Ilunga Axe, Fede Zebeni e Fede. Elisa Maino è consapevole di cosa è diventata in poco tempo e cosa sta facendo ma non pensa di farne un mestiere e soprattutto ha due genitori vigili a gestire tutto questo successo, fatto di tantissimi messaggi e richieste. La ragazza è stata vittima anche di bullismo e questo non ha fatto altro che fortificare la sua personalità. Grazie a tutti!